La città di Urbino Armonia Cosmica, Franco Lanari, Roma, 17 febbraio 2001, ore 19.30, mezzo Gianna, presenti Franco, messaggio per incorporazione diretta Considerato che è stata la prima incorporazione diretta della medium Gianna, il messaggio è in certi punti frammentato, ma comunque molto chiaro nei contenuti Entità chiara Difficile per riuscire, rallentare la tensione Vorrei dire che non ce l'ha? Sono stata una donna anch'io Perciò non si deve approfittare del corpo di una persona, ma rispettarla e di ciò che non ci appartiene È come se si entrasse in punta di piedi senza lasciare traccia alcuna Quello che farò adesso Ti ringrazio di avermi dato questa opportunità che mi consente di dimostrare di essere un minuto ancora sulla terra Ma non per restare più di tanto Ho ben altro adesso da fare Se volete domandarmi qualche cosa Franco, ti chiedo, mi puoi ripetere chi sei? Chiara Sono Chiara Franco, bellissimo, mi emoziona Chiara, ti ringrazio che sei venuta in questa casa Chiara, tu mi conosci? Franco Sì, ti ho sentito nominare, Chiara Puoi continuare ad usare il mezzo? Chiara Sono vissuta il XVI secolo Sono morta molto giovane Mi hanno composta di un vestito bianco che io indossavo solitamente quando giocavo fra le amiche nel giardino a primavera Avevo 25 anni Mi ero sposata da poco Vivevo nel centro dell'Italia La città di Urbino Io sono stata portata via dall'infezione Che in sette giorni mi ha tolto la bellezza e l'amore di cui potevo Ma adesso sono pronta a ritentare per una esistenza dove altre bellezze, più interiori, saranno quello che mi lascerà di più la prossima vita Ho avuto già l'amore e la bellezza Adesso voglio l'amore di Dio e dello Spirito Franco, bene, basta così, Chiara Ti ringrazio ancora Chiara, vi saluto Chiara Grazie Chiara, ti salutiamo